Ciao a tutti ragazzi, sono Fabio e benvenuti al mio canale. Oggi vorrei mostrarvi come installare delle mod su Refactor 2. Innanzitutto vorrei precisare che questa guida è rivolta ai neofiti o comunque a chi ha poca dimestichezza nell'installazione di queste mod, sia che esse provengano dal workshop di Steam o che provengano da fonti esterne. Io oggi farò vedere in entrambi casi come vanno installate. Partiamo dal più semplice. Apriamo Steam, richiamoci in libreria, selezioniamo Refactor 2 e qua vedremo la schermata con scritto Steam Workshop. Basterà cliccare sul tasto sfoglia il workshop. Qui ci aprirà una pagina dove sono raggruppati tutti i contenuti scaricabili di Refactor 2. Da qui possiamo notare una barra di ricerca manuale dove noi possiamo mettere del test e cercare un modello specifico di auto. Qua abbiamo un'anteprima delle mod più recenti o come dice qua più popolari e quindi possiamo dare un'occhiata. E qua ci dà altre opzioni di ricerca come più popolari, più sottoscritti o più recenti. Questa sponda sta a indicare che il contenuto da me è stato già sottoscritto e quindi è già presente nel gioco. Adesso vi farò vedere come si installa. Ad esempio clicchiamo su quest'auto. Come su questa, come su qualsiasi auto di nostro interesse. Basterà cliccare sul tasto sottoscrivi e partirà un automatico un download. Questo download andrà a scaricare l'auto e l'andrà a installare automaticamente. Non dovremo fare altro che entrare sul gioco e già l'auto sarà disponibile. Stessa cosa per i tracciati. Infatti se andiamo a prendere un tracciato qualunque, giusto per farvi vedere, ad esempio a me manca questo anogaro, io ci clicco, clicco su sottoscrivi, in automatico partirà il download che andrà a scaricare e installare direttamente questa pista. Quindi non dovrò fare altro che entrare sul gioco e già la potrò utilizzare. Come installare invece una mod proveniente da una fonte esterna? Il procedimento è leggermente diverso. Io ho già scaricato una mod e adesso vi farò vedere come va installata correttamente. Basta che mi apro la cartella del download dove ho scaricato, io mi troverò qua un file zippato. Andrò a scompattare il suo contenuto. Lo estraiamo sul desktop. Perfetto, possiamo chiudere tutto. Troverò questo file chiamato barain.rfcmp. Di solito tutte le mod provenienti da fonte esterne sono uguali a questo, hanno la stessa identica estensione. Cosa dovremmo fare? Dovremmo recarci sulla cartella package del gioco. Quindi andiamo su Steam, libreria, rfactor2, tasto destro, proprietà, file locali, sfoglia i file locali. Qui all'interno troveremo la cartella package. Basterà aprirla, prendere questo pacchetto e spostarlo qui dentro. A me chiede di sostituirlo perché già era un procedimento che avevo già fatto. Andrò a sostituire. Bene, una volta fatto questo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aprire il gioco. Quindi apriamo rfactor2. Bene ragazzi, una volta aperto rfactor2, richiamoci su questa icona, content. Lui ci darà una lista di cose. Come potete vedere qua ci sono delle spunde. Questa sarebbe installata, non si legge ma indica le mod che sono state installate. Se voi date un click vi verranno fuori tutte quelle che non sono installate. Tra questa il barain, come quella che ho scaricato poco fa io. Cosa dovremmo farla? Dovremmo semplicemente selezionarla e cliccare sul tasto install e partirà l'installazione. Una volta terminata questa installazione, possiamo avviare il gioco e già troveremo l'auto o la pista da voi scaricata direttamente nel gioco, pronta ad essere utilizzata. Tutto qui. Ragazzi, il video finisce qui. Se il video vi è piaciuto pollice in su, iscrivetevi al canale e al prossimo video. Ciao! Ciao!